In position, set e' partita testa, la seconda batteria, subito la pezzata in prima posizione. Siamo già all'uscita di curva per le atlete, ancora Aliciani all'esterno, prendersi la prima posizione così a subire l'atleta di casa della Samperepese. Paraschetti, quindi si dà gli ultimi cento metri, ridiamo le prime due, passo 9 in finale. Ed è la Aliciani, sicuramente in prima posizione per la Paraschetti, in seconda. E' parte regolare anche questa terza batteria, trattate in un fascioletto per prendersi la prima posizione della Bucolini, in prima, poi Casierre in seconda con la Carver, De Palma, Bozzani, ancora tutto in variato. Ed è la Bucolini, poi Carverre, 4 a 3 in un fascioletto, quindi si andrà a spintare le prime due, e passano alla semifinale, quindi adesso si andrò a ventaglio con la volata. Ed è accedere alle prime due posizioni, quindi Carverre e Bucolini in prima e seconda posizione. Partito a regolare anche questa ultima batteria, buongiorno all'interno, ripetersi la prima posizione, ci riesce, sì, quindi Criada Comina in prima posizione, poi Lissandrone in seconda, trattate già all'esterno, la trattate alla spinea, trattateci Dei in seconda posizione, ancora buongiorno in prima spinea. Adesso Passani sarà proprio con la nuova spinea in prima posizione, siamo all'ultima burba, ripetiamo gli ultimi due posti per accedere alla semifinale, e la presa con la spinea, poi c'è quella della seconda posizione di Lissandrone.